1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok, ci siamo? Mi facciamo assaggiare la musica, prego Si chiama MAMAGUANA facciamo solo questa piccola introduzione e poi ci fermiamo subito e parto con la seconda sequenza via sentite bene? run di introduzione via ok di nuovo di nuovo